Buonasera a tutti, ci siamo lasciati il video scorso con questa foto e quindi sarà la foto di avvio, di partenza, di apertura delle prossime di questo video, insomma delle prossime foto che andremo a vedere e in questo video ne vedremo alcuni oggetti della collezione molto importanti molto interessanti molto prestigiosi e anche abbastanza costosi e quindi state con me perché vi faranno come si suol dire vi faranno venire l'acquolina in bocca e vi ricordo che è un'asta che è stata fatta nel mese di settembre scorso, in due giornate e in collaborazione Aste e Bolaffi con Fondazione Time 2 nei locali di quest'ultima a Torino. Allora, notiamo subito un marchio conosciutissimo di petrolio, insomma di benzine varie, API, molto antico come nome, quello che poi è diventato, era IP mi pare, poi è diventato API, IP, industria petrolio, poi è diventato API, Anonima, Petroli, Italiano, viceversa, comunque siamo lì, vedete a terra, abbiamo due pale vintage, direi sulla sinistra vedete un manubrio, vedo anche un, sempre qui sulla sinistra vedo, credo che sia un calendario, andate a vedere astebolaffi.it, questa collezione di asta di settembre, visto che ci sono state vendute, sono state vendute, ovviamente direi, i calendari della Pirelli, con le donne in topless, sono diversi calendari, due o tre calendari, se non ricordo male, non era uno solo, io ne ho uno in garage, non è della Pirelli, ma è della Simone Racing, accessori after market, per auto, lo tengo lì in garage, è l'unico che ho con donne in topless, che mia moglie e mia donna, insomma, mi permette di tenere lì da parte, perché alla fine, insomma, sono foto, c'è niente di male, non ci vediamo niente di male, alla fine, entrambi, ecco, e comunque andiamo a vedere effettivamente di cosa stiamo parlando, cosa stiamo vedendo, vedete l'otto numero 4, quello in basso, poi lo vedremo più avanti, perché ho la foto, non potrevo non farla, conosciutissimo, Michelin, no? Comunque, insegna distributore di benzina API, aperto, chiuso, vedete la parte scritta aperta, quindi la parte retrostante sarà scritto chiuso, anni 80, base in cemento, strutture in metallo e pannello centrale in forex, lievi difetti 95x107, quindi alto un metro, circa, base d'asta 300, giudicato a 325, questo sarebbe carino da tenere anche in casa, in un bar, in un locale, comunque una collocazione la si trova, secondo me. Andiamo a vederlo, andiamo a vedere ecco, un marchio, un simbolo, un nome, una manifattura, insomma, un'azienda, no? Abarth del gruppo Fiat, questo è bellissimo, lo trovo stupendo, ci sono migliaia, in giro, non faccio altro che vedere Fiat 500 Abarth, costosissime, basali all'estimente, eccetera, ma molto, molto, molto belle, io non potrei mai acquistarmela, perché dovrei staccare il sedile anteriore, che sono molto alto, ho provato ad entrarci in una macchina del genere, sto strettissimo, quindi non farebbe per me, però va bene. Andiamo a vedere il cartellino di appartenenza, allora, non si vede benissimo, comunque lo vedremo dopo nella foto che ho preso, nel sito astibolaffi.it, dove trovate tutte le foto, queste e tante altre che non ho scattato, vedete, Abarth, insegna concessionaria nel 2000, in plastica rigida, proveniente da una concessionaria, quindi originale al 100%, Abarth, lievi difetti, 98x88, quindi siamo quasi su un metro, no? di misura, no? Vedete, 500 euro, al 500, lo vediamo di nuovo, lo vediamo, è bellissimo, e poi i colori sono troppo belli, con lo scorpione, un nuovo simbolo dell'Abarth, andiamo a vederlo, ecco, vedete sotto, no? Martini Resing, abbiamo visto qualche video precedente, questa insegna è in latta, e quella sopra, vedete, insegna concessionaria, eccetera, eccetera, e base d'asse 500, aggiudicato a 500 euro, quindi non ci sono state offerte a rialzo, però comunque già 500 euro per questo oggetto, insomma, non sono pochi, però, insomma, per quello che rappresenta, secondo me, ci stanno tutti questi 500 euro. li avresti comprato? Forse sì, forse no, chissà, non ho un Abarth, però Abarth comunque è un marchio molto, molto importante. Ecco, questa è una panoramica del, questa è una panoramica della camera, no? D'una delle stanze dove ho fatto, vedete, appunto, una panoramica degli oggetti in esposizione, con al centro questo oggetto qui, adesso andremo a vedere nello specifico, vedete la parte dietro, no? Questa, questa statua girevole che abbiamo visto prima, della Bosch, e poi vediamo qui sotto, vedete, quello, quello che si, che non era illuminato in quel caso lì, no? Della Super Mario, questa scatola, no? Indicare appunto Super Mario, un famosissimo gioco, vedete dietro ci sono piattini, vassoi, libri, qui a destra ci vedete la Lamborghini che abbiamo visto prima della Poker, a sinistra, vedete, ci abbiamo delle valigie, e poi abbiamo, vedete, i due servi muti, quelli che vi dicevo io nel video precedente, quello, vedete, di Carnagione Chiara, che era l'822, è quello che dicevo io, quello col copricapo rosso, l'823, è quello che io ho fatto l'annuncio nel video precedente, se volete sapere che annuncio ho fatto, andate a guardarvi il video precedente, perché ho fatto una richiesta, ecco, se è possibile ottenere una risposta, nulla di scandalosa, insomma, nulla di importantissima, è soltanto una piccola curiosità che volevo rilevare, insomma, rivelare al proprietario dell'823. Comunque, andiamo a vedere questa mega lattina, di che cosa si tratta, vedete, le cartelline di partenza, l'815, Coca-Cola lattina iperrealista del 1996, con tanto, vedete, di polsiera Coca-Cola, bellissimo, in cartone pressato, con base e coperchio in plastica, e lievi difetti, 61 per 98, e quindi quello, andiamo a vederla, in base d'asta, vedete, 50 euro, 61 sarà il diametro, 98 l'altezza, quindi un metro, insomma, l'altezza non è poco, poco, intanto, di cannuccia, quindi sarà ancora un po' più alto, però la trovo molto bella, molto rappresentativa, vedete, Always Coca-Cola, e andiamo a vedere a quanto è stata aggiudicata, eccola qua, lattine iperrealista, in cartone pressato, eccetera, eccetera, base d'asta a 50, aggiudicato a 175, quindi siamo oltre tre volte il valore del base d'asta, insomma, no, e quello sotto è quello dell'inizio, no, abbiamo visto il primo video delle collezioni, Coca-Cola insegna luminosa, vedete questo qui, base d'asta a 500, aggiudicato a 1000, quindi, insomma, è Coca-Cola, è un marchio, insomma, ma più avanti vedremo un marchio che, ah, sarà, mamma mia, è bellissimo, qualcosa di veramente stupendo, e qui abbiamo il flipper che io adoro, amo, io, è l'unica dove mi sarei buttato a capofitto per comprarlo, perché è un sogno, non è il cassetto, il mio è un armadio, non è un cassetto di tutti i sogni che mi piacerebbe realizzare, vedete, a destra ci sono un'altra, una vetrata di quelle che abbiamo visto nel video precedente, no, e quelle che sono state giudicate a circa 150 euro, no, questo invece è un flipper vero e proprio, bellissimo, vedete, con gettoniere, classico da bar, ci ho giocato fino a non molto tempo fa in un bar e mi sono divertito tantissimo, e i giochi degli anni 80, no, ma ci si divertivano, una volta si mettevano le 200 lire, poi arrivano le 500 lire, poi adesso, ultimamente poi sono arrivati, cosa erano, i 20 centesimi, i 50 centesimi, forse adesso è un euro addirittura, comunque, vabbè, vedete, flipper, space shuttle zaccarimino, 980, 1,85 x 56 x 131, base d'asta 700, e poi vedete, vetrata, testata, flip, quello che abbiamo visto prima, quindi andiamo a vedere a quanto è stato aggiudicato, vedete, nella foto sotto, da restaurare, quindi non funzionante, in pratica oggetto vintage, vedete come oggetto la collezione, per tanto non si garantisce il perfetto funzionamento, non è difficilissimo da restaurare, da aggiustare, però ci vuole un tecnico, quello adatto, quello che so io, non è che non ci metti in mano tu, così, senza esperienza, senza sapere dove mettere le mani, perché fai più danno, ci vuole una persona adatta, insomma, che è giusta ai flipper, per portarlo in condizioni ottime, vedete, base d'asta 700, è giudicato a 1.500, eh, quindi, e poi il valore, quello suo, secondo me, c'è 1.500 è anche poco un flipper del genere, restaurare, spendere, non so, altri 500 euro, con 2.000 euro un flipper nuovo, questi flipper viaggiano a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, eh, poi bisogna vedere il gioco che ha all'interno, le luci, eccetera, ma siamo lì come cifra, a meno di 4.000, che l'ho cercato, a meno di 4.000, funzionante, non lo trovi, eh, non lo trovi, quindi, c'è 1.500, più restauro, altro che, sopra, vedete, è stato venduto anche il garlando, caccio, caccio balilla, e, anni, vedete, 2010, base d'asta 450, giudicato a 4.200, quindi siamo quasi a 10 volte il valore di base d'asta, quando dicevo costosi, ecco, qua ce n'è uno, base d'asta, diciamo, ma che bello il garlando, 450, questo è da casa, non è da bar, perché la differenza della casa col bar, vedete qui a sinistra, ha la buca dove scende la pallina, quello da bar, perché ha la gettoniera, invece quella da casa non ce l'hanno, perché non serve, la pallina direttamente scende, la prendi e giochi, e ripeto, certo, il garlando è un nome, è una garanzia, eh, anche se a spinetta marengo c'è Sardi, che io ho conosciuto, adesso non c'è più il titolare, è perso da squisita, e, insomma, anche lui, biliardi, calcetto balilla, stecche e tanto altro, di ottima qualità pure quei prodotti, e ho conquistato un prodotto, per questo lo dico, da Sardi. Comunque, vedete, dicevo, pezzi, oggetti costosi, vi ripeto, qui ce n'è uno, ma più avanti ne vedremo altri. Comunque, io, adesso andremo a vedere una prossima foto, questa qui, insomma, per ricordarvi che cosa stiamo guardando dall'inizio, no, di questa avventura bellissima, stupenda, di Aste e Volafi, di questa asta che è stata fatta, e, quindi, al prossimo video andremo a vedere altri oggetti di collezione molto, 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 molto importanti, molto importanti, soprattutto per i giovani, ce n'è una che è stupenda, quindi non perdetevi il prossimo video, io intanto vi saluto con un abbraccio affettuoso, non mancate, ciao! Grazie!